Reggio Calabria, zona Pelloro. In questa casa, il 16 giugno dello scorso anno, due anziani coniugi vennero rapinati. I malviventi, col volto coperto, sfondarono la porta d'ingresso, immobilizzarono i due pensionati per poi impossessarsi di una consistente somma di denaro custodita nel cassettone di un mobile della camera da letto. Conoscevano bene le abitudini della coppia, come emerso dalle indagini della squadra mobile coordinate alla procura reggina. Oggi i presunti irresponsabili sono stati ammanettati, quattro le persone arrestate, tra loro anche l'abbadante della coppia e il genero. Le vittime, lui 93 anni, lei 86, entrambi deceduti per cause naturali nei mesi scorsi, raccontarono agli inquirenti di essere stati aggrediti nelle ore pomeridiane da due persone col volto travisato. Entrati in casa, i malviventi tapparono la bocca ai due anziani con le mani per non farli gridare e si diressero con fare sicuro nella camera da letto. Aprendo il cassettone dove i due custodivano i risparmi di una vita. Gli inquirenti hanno analizzato le telecamere presenti nella zona e così è stata individuata l'auto utilizzata dai rapinatori, risultata noleggiata da uno degli arrestati. L'analisi dei tabulate e le intercettazioni telefoniche hanno poi permesso di raccogliere gravi indizi a carico dei due autori materiali della rapina, uno dei quali è risultato essere il genero dell'ultima badante delle vittime. Anche la donna è stata colpita da misura cautelare, sarebbe stata lei a fornire ai complici le informazioni necessarie per portare a termine la rapina.